Un successo come tutti gli altri anni, voglio dire, sempre positivo, con questa voglia e volontà di allargare sempre gli orizzonti di questa società a livello di collaborazione, a livello proprio di organizzazione. Quindi ogni anno, il terzo anno consecutivo, sta andando in porto questa iniziativa. Manifestazioni ben riuscite, con premi anche interessanti. Il primo ha vinto, ha vinto addirittura una crociera. Sono delle attività che vanno sicuramente ripetute e che devono essere atte a promuovere quelle che sono le attività sportive all'interno di una città che di sport sa vivere. Per quest'anno ci siamo sentiti appunto di fare anche il nostro, quindi mettere all'interno di questa bellissima vostra iniziativa, di questa bellissima realtà che è Matera Sport Academy, un premio importante, qual è questo appunto di una crociera MSC con l'aiuto e il supporto della compagnia stessa, di MSC Crociere che ringraziamo, è il nostro network commerciale agenzia per amica. Insomma, quando gli amici chiamano bisogna anche rispondere in qualche modo e quindi ci è sembrato doveroso partecipare in questo modo per un premio importante.